Un cuore artista è un concorso di pittura che nasce l'anno scorso nel Comune di Castelbuono organizzato dal Club degli Artisti con il patrocinio del Comune di Castelbuono. Quest'anno, oltre al patrocinio del Comune di Castelbuono, abbiamo anche il patrocinio dell'Accademia di Belle Arti di Palermo ed l'evento è stato riconosciuto di interesse culturale da parte di Palermo Capitale della Cultura. Come si sviluppa? Allora, il bando sarà aperto fino al 22 luglio, le iscrizioni sono a numero chiuso ed il bando è aperto a tutti gli artisti che vogliono cimentarsi proprio in questa esperienza quindi poter esporre in una location magnifica come Castelbuono e allo stesso tempo mettersi in gioco per poter anche vincere premi molto importanti tra i quali delle pubblicazioni su riviste d'arte, un workshop a Roma, una mostra collettiva a Roma, dei buoni sconto su e-commerce insomma sono tutti premi che servono a dare rilevanza appunto all'artista perché la mission proprio di questo concorso è quella di permettere a tutti di partecipare anche con un contributo di partecipazione molto basso per permettere appunto agli artisti di potersi mettere in mostra a livello nazionale. C'è un tema oppure ogni artista è libero? No, il tema è libero proprio perché pensiamo che l'arte non debba essere ingabbiata all'interno di schemi quindi chiunque può partecipare con l'opera che vuole, con la tematica che vuole rispettando solo alcuni vincoli di misura quindi chi vuole partecipare può trovare tutto scritto sul bando di concorso che è scaricabile o dal sito del club degli artisti quindi clubdegliartisti.com o direttamente dalla pagina facebook Un Cuore d'Artista. Un Cuore d'Artista